Il grande vantaggio delle giornate di recruiting in Ateneo è che ti fanno saltare tanti passaggi, perché le aziende sono già lì, a portata di mano, e questa è un'occasione da non perdere. L'Università di Siena struttura l'evento in quattro giorni per darti il tempo di prepararti e per darti modo di seguire le presentazioni aziendali e organizzarti per i colloqui, i seminari e gli incontri. Studiati il programma e organizza la tua agenda settimanale. Le giornate sulle professioni ti aiuteranno a capire quali sono gli sbocchi occupazionali e i percorsi di carriera dei settori specifici. I momenti di orientamento, il workshop e il CV check ti daranno modo di arrivare al giorno del Career Day con un buon CV e ti daranno gli strumenti per presentarti al meglio. Fai un buon CV seguendo il corso online del placement e approfitta della consulenza individuale che il placement ti offre durante tutto l'anno. L'ideale è un CV semplice in una pagina sola. Portalo con te al Career Day. Registrati anche sulla piattaforma Alma Laurea e cura il tuo profilo con la massima attenzione perché è quello che vedranno le aziende prima e durante il Career Day. Studia bene i profili delle aziende presenti e dati delle priorità. Devi conoscere perfettamente azienda e profilo delle due o tre che ti interessano in particolar modo. Vai alle presentazioni aziendali. Nella pagina Lavora con noi, nelle settimane precedenti, delle aziende che ti interessano di più, compila il form online se c'è perché questo è indice di alta motivazione. I colloqui e gli stand sono molto brevi. Prepara una presentazione di te di un paio di minuti. Chi sei? Cosa ci fai lì? Cosa speri per il futuro? Chi sei? A che punto sei con i tuoi studi, le tue esperienze, stage, volontariato, associazioni, esperienze universitarie, progetti, esperienze all'estero, interessi? Cosa ci fai lì? Perché quell'azienda? Perché quell'ambito? Cosa speri per il futuro? Qual è il tuo obiettivo professionale? Approfitta soprattutto dei momenti informali per conoscere professionisti, consulenti, alunni. Cerca di restare in contatto con loro, ad esempio chiedendo il collegamento su LinkedIn la sera stessa. Ovviamente deve avere un buon profilo LinkedIn. Se hai bisogno, il placement ti può fare consulenza anche su questo. La Career Week è organizzata dal Placement Office Career Service. Trovi tutte le informazioni, il programma, le aziende presenti nella pagina www.careerweek.unisi.it